Cari professori, mostro il fatto di quanto è importante che siate qui con noi oggi. Professor Viale, grazie di essere qui. Cari delegati, è una grande, anzi grandissima emozione che vi trovo qui oggi su questo palco così importante, così autorevole, per inaugurare insomma a voi il Centro World Modern World 10. Il mio più sincero ringraziamento, al di là di ogni stretta esigenza formale, mi consentirete, all'intera missione permanente italiana, per un straordinario supporto, grandi amicizie, mi consentirete di dire, che hanno consentito tutto questo. È naturale che Cerenza di Lera tra qualche giorno dimenticherà le nostre facce che via via anche le emozioni per voi per questa giornata andranno scemando. Ebbene, io non dimenticherò mai, il giorno in cui è arrivata la sua lettera all'improvviso, che ci comunicava che la nostra richiesta di essere ospiti qui, grazie a lei, grazie a tutti voi, è assata a coletà, con un linguaggio un po' improprio, che ho scritto subito, perché per noi è un sogno che si realizza, quindi grazie, grazie di vero cuore per questa possibilità. Un ringraziamento davvero particolare anche al sindaco di Catania, lo dirò brevemente, quando dieci anni fa, dodici anni fa, partì questa esperienza, eravamo ragazzini, veramente, e eravamo qui in 40 e non avremmo mai più di immaginare che un giorno saremmo stati promotori di un modo di vento e ospitati qui e non avrei mai immaginato, ma quanto onore ci fa che il nostro sindaco, dalla città in cui tutto questo è partito, anche se adesso noi siamo in una realtà pienamente nazionale, come voi sapete, è un sindaco che ormai non è nazionale, ma che grande onore per noi, di me, dei siar qui oggi. Questo nostro evento non sarebbe stato mai possibile senza voi, ragazzi, lo sfatto della situazione. E' una grande emozione già solo potervi ringraziare qui adesso, perché senza il vostro entusiasmo, la vostra intelligenza, la vostra amicizia, tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie ragazzi, non per quello che fate. Grazie ragazzi, non per quello che fate, ma per quello che siete, che è la cosa più importante per me. Questo nostro evento nasce dalla nostra ormai decennale esperienza di partecipazione alla UN Conference e abbiamo voluto immaginarlo completamente incentrato su questo tema, anche in particolare, non tanto le due questioni prese tra loro singolarmente, i diritti umani e le energie rinnovabili, in quanto tra il legame che al nostro modo di vedere unisce questi due argomenti che probabilmente saranno al centro delle più questioni internazionali. Però ragazzi, non è tanto l'argomento che andrete trattando durante questi lavori che fa priorizzare il valore e il valore della conferenza. Sarà il modo con il quale parteciperete a questa conferenza che potrà rappresentare veramente un momento di crescita per ciascuno di voi, mi permetterete perché se voi darete non il 100% ma il 110% di voi stessi, se rispetterete le regole, se sarete sempre pronti ad ascoltare gli altri prima di parlare, beh, allora io penso che centrerete il vostro obiettivo perché il change the world è prima di tutto come essere prima di tutto un esercizio di libertà e una palestra di leadership. Certo ragazzi, sono anni difficili per l'economia, per l'intero sistema internazionale e speriamo che un giovane proprio per questo oggi, più che mai debba rimenticare per sé il diritto a una formazione globale che guardi prima all'uomo e poi anche al professionista che ha le sue competenze. forse anche con una formazione meno ossessivamente specialistica e più attenta alle capacità personali e relazionali di ciascuno di noi. Mi piace citare un grandissimo poeta e dico l'uomo non è e non deve diventare diceva il poeta un cinchiale laureato in matematica pura ma essere il frutto di mille diverse contaminazioni culturali ed esperienziali. La sfida del mondo globale io credo che il territorio presupponga una profonda conoscenza delle differenze culturali complesse analisi della realtà e rafforzate capacità di provvenzioni. Per questo io credo che un percorso formativo ha rinvito la modellice esperienza all'estero e mi dall'altro anche al discorso molto incoraggiante splendido dei funzionari dottor Coromani che ringraziano molto di questa loro partecipazione non può prescindere da esperienze di studi internazionali e solo questo percorso ragazzi è capace di garantire ai giovani la crescita professionale e personale adeguata alla sfida soprattutto del mondo del lavoro globale perché appunto non so quanti ne auguro tutti quello che lo curate ma quanti potrete poi diventare diplomatici di carriera questo nostro esercizio è un esercizio anche al lavoro globale e quindi ragazzi questi percorsi di eccellenza all'estero questi come tanti altri di qualità sono la sola risposta possibile per l'acquisizione delle competenze necessarie prima gli studenti si confronteranno con queste esperienze tanto sarà più facile che tornino a spendere le competenze così acquisite nelle loro città nelle loro regioni e nel loro paese di origine perché la formazione all'estero non può essere pensata come una fuga ma deve essere un momento di crescita per tutti di partire ma magari anche per ritornare portando con sé nuove idee nuove sensibilità per questo io credo che riconoscere e promuovere con mezzi concreti il diritto alla mobilità di un test internazionale deve essere oggi il primo dovere morale su una classe dirigente che voglia garantire ai giovani il futuro che metano di sommarci intende rispondere a questa esigenza e operare concretamente per l'effettivo esercizio da parte degli studenti del diritto alla mobilità studentesca per ragazzi diplomatici è tutto questo ma come voi sapete è anche la dimostrazione che la versione giovanile può essere affrontata non come mera rivendicazione di spazi politici sociali o di potere perché esiste una versione giovanile esiste nel nostro paese ed esiste in tante altre realtà internazionali ma esiste la possibilità di un dialogo tra generazioni dove anche i giovani siano collaboristi perché esiste la possibilità che siano insieme i giovani e i meno giovani o per citare un altro grande poeta i falegnani e i piossidi insieme a costruire e poi ragazzi diciamo spesso questa nostra generazione è stanca di dover avere una speranza è una generazione pronta per essere una speranza e ragazzi voi siete la nostra speranza bene è questa l'unità di utenti che ha fatto nascere il centro World Modernized Nation che proprio per questa avvicinanza per questa capacità di dialogo tra i giovani e i meno caro Salvatore caro presidente del nostro International Board io vi ringrazio il cuore per quello che hai fatto con tutto il mio cuore per il campo la disponibilità per la quale hai deciso di aiutarci si è diventato per me e per tutti noi un punto di riferimento imprescindibile e per questo noi ci sentiamo molto fortunati come da sempre Nuccio tu sei un riferimento irrinunciabile per la tua onestà il tuo coraggio la tua amicizia grazie a te grazie ai professori che siete qui grazie a te che ci sei da sempre grazie a Paolo che ci sei da alcuni anni ma grazie anche agli ultimi rivali a Cinzia a Federica a Max grazie a tutti voi di essere qui sapete quanto è importante per noi questo now I'm going to stay in carter with change the world more than a nation so the other is good luck I wish you will live this day as I live in my festival modern modern in 2001 and I wish you could extract all the best from this experience be always welcoming to others be always decisive and respectful of the other's equals opinion stay focused eager ready to achieve your goals and respect be proud of your mother country and respectful of the country you are going to wrap up the conference be ready to upset the truth and fight against anyone but never take anything for granted don't let the others be their decision members let the other trust you and be faithful and honest with your competitors be always aware that any day is a good day to add another time to your personal history you are the ones who are supposed to build our history be prepared the time to check the world as now ciao